che cazzo di partita o l'imortacilo ciao siamo tornati con questo nuovo video il quarto della giornata oggi quarto post partita atalanta lazio 3 pappine a 3 porca puttana ragazzi se questo è il calcio è il calcio cioè porca miseria ragazzi ma veramente cioè queste sono le partite che io voglio vedere tutte le sere con queste partite ci si diverte quante cazzo di quarto ho detto queste non ce le può fregare meno 10 gol di milinkovic savic 12 de caldara 11 di luisa alberto indovinate un po' al fantacalcio chi c'è a contro eh vabbè ma a parte questo a parte questo ne parliamo domani nel video dedicato mi voglio concentrare sul risultato della partita e non sugli episodi perché degli episodi lo sapete ne parliamo domani al processo del gabbone quindi non mi cominciate a dire nei commenti si è ma a deburre poteva essere espulso hanno cacciato in zaghi oppure e il var ha annullato un gol a caldaglia a caldara come cazzo si chiama perché doveva non mi può interessare ragazzi i miei domani me li riguardo con calma e poi ci faccio il video del processo quindi parliamo del risultato acquisito una partita di quelle esagerate se le so date de santa ragione oggi poteva finire in qualsiasi modo alla fine è uscito secondo me il risultato più giusto perché entrambe hanno dimostrato di volerci credere fino alla fine e di voler portare a casa la vittoria che alla fine non arriva quindi un pareggio l'Atalanta quest'anno ragazzi ho più la voce l'Atalanta ragazzi quest'anno sta dimostrando veramente cose grandissime non solo in Europa ma pure l'anno scorso ovviamente ma anche in campionato si sta riprendendo e non poco la Lazio si ferma un pochino perché davanti vabbè si ha perso la prima in classifica ma vince la Juve vince il Napoli e vince la Roma ovviamente ancora in corsa secondo me per il quarto posto non c'è sta assolutamente alcun problema ma ci stanno tantissime partite i punti di stacco non sono poi così tanti se non mi ricordo male l'Atalanta sì la Lazio scusate che c'ha una partita in meno per il resto ragazzi lascio a voi i commenti voglio sapere che cosa ne pensate se secondo voi il pareggio è meritato oppure se una delle due poteva pretendere di vincere sull'altra ve lo ripeto varre cazzi vari in zaichi espulso quello così con l'ammunizione che c'è stava eh ne parliamo domani al processo del Gabone domani arriva appunto il processo dovrebbe se ci riesco arrivare la live reaction se no pure stasettimana salta ci metto una vita Petitalla ovviamente Roma Cagliari sicuramente farò farò un post questa sera in cui vi chiedo se domani la volete vedere altrimenti ragazzi la butto Arsecchio non me ce metto manca a perdere tempo se non ve va De Guardalla e poi i risultati del Fantacalcio Mi piace commentate condividete iscrivete al canale lo ripeto se questo è il calcio tutte le settimane io ce metto una firma grossa come una casa Cese diverte che è una meraviglia sto un po' rincoglionito butto un goccio vino mi ha fatto non ci sto capincazzo Buonanotte ragazzi miei bello a tutti